buongiorno a tutti allora 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 magliettina del gigione e poi dopo parliamo di formula 1 sì 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 ma prima la magliettina del gigione con la frase della settimana con cuoricino e omino abbracciato al cuoricino spero si veda penso di sì no non muoviamo se non capite un tubo bene detto questo ragazzoli formula 1 gran premio di Singapore qualifica e poi piano piano vedrò di recuperare anche tutte le gare di raccontarvi eventualmente anche la sprint race sia per la formula 1 che per la moto gp che metteremo assieme detto questo andiamo a vedere come sono andate le qualifiche perché mamma mia adesso c'è una regolina nuova mi giunge nuova aspettate che guardo anche la regola nuova regola nuova che è appunto quella che sei obbligato a usare sperrezza non in c'è la regola nuova no che ha deciso al 31 di agosto sulle ali flessibili no quindi la td 0 18 chiarisce di fatto una volta per tutte qual è la libertà di movimento concessa alle varie parti della monoposta al fine di mettere un freno a soluzione che gli ispettori considerano illegali, seppur non espressamente viedate dal regolamento. Quindi c'è stato questo cambiamento, c'è stato il cambiamento delle qualifiche in cui non c'è più la regola che la gomma che utilizzi in Q2 poi la devi utilizzare anche alla partenza del Gran Premio, ma fanno gomma bianca per il Q1, gomma gialla per il Q2, gomma rossa più veloce per il Q3. Quindi poi c'è questo regolamento qua sul movimento delle ali che non si possono toccare più di tanto e quindi c'è tutte queste novità che potrebbero mettere in crisi tra virgolette qualche squadra. Comunque Q1 a sette minuti e mezzo dalla fine del Q1, miglior tempo per Russell. Davanti all'Eclair, Norris, Peretz, Hamilton e Verstappen che per ora è lì abbastanza tranquillo. Viceversa i piloti a rischio di essere mandati a casa sono Bottas sedicesimo, Zou diciassettesimo, Stroll diciottesimo, Alonso diciannonesimo che ha un tempo altissimo quindi vuol dire che sta facendo i giri di perlustrazione, chiamiamoli così, di formazione e quindi non ha ancora fatto un giro serio e Gasly che non ha neanche un tempo da segnalare. Incredibile ultimo giro alcuni piloti riescono a finire appunto ad arrivare sul traguardo con qualche secondino di anticipo sulla bandiera Scacchi e quindi teoricamente avrebbero un altro giro e altri no perché Stroll, proprio sul traguardo praticamente, perde la sua monoposto, stava facendo la curva, la perde, va in controsterzo per cercare di rimetterla ma non ci riesce, la macchina va a sbattere pesantemente contro il muro, poi fa un mezzo testa a coda e rientra in pista completamente disintegrata. Fortunatamente lui le mani le muoveva, ha mollato il volante proprio quando ha visto che stava per andare a sbattere per evitare di fare la fine del povero Ricciardo, però così facendo scatta la bandiera rossa e metà dei piloti se non di più perché sul traguardo ne sono arrivati 4, 5, 6 prima di lui, poi lui stava arrivando, ha sfasciato la macchina, quindi bandiera rossa e chi aveva il tempo è rimasto dentro, quelli che speravano di finire e magari migliorarsi e rientrare, entrare nei 15, ahimè non hanno potuto e quindi restano fuori dal Q2 Bottas sedicesimo, Piastri diciassettesimo, Sarjan diciottesimo, Zu diciannovesimo, appunto Stroll ventesimo. Alla fine miglior tempo incredibile ma vero per Sunoda davanti a Perez, Hulkenberg, Lobson, il pilota che appunto sostituisce Ricciardo, Magnussen, Russell e via via tutti gli altri, ma ripeto è solo il Q1 conta poco, nel Q1 conta entrare nei quindici e nel Q2 conta entrare nei dieci, il Q3 conta perché li c'è i giochi la pole position. Inizia il Q2 a sette minuti dalla fine, miglior tempo per Russell davanti ad Alonso, Sainz, Norris, Hamilton e Leclerc, viceversa ma mancano ancora sette minuti quindi può succedere di tutto. I piloti a rischio sono, clamorosamente, Perez un dicesimo, Hulkenberg dodicesimo, Lobson tredicesimo, Albon quattordicesimo e Sunoda quindicesimo. Attenzione a Massmerzaphen che rischia delle posizioni in Grislinia perché durante le qualifiche è stato notato un impeding su Sunoda, ma se ne parlerà alla fine delle qualifiche. In ogni caso, signori, incredibile ma vero, le due Red Bull sono fuori dal Q3 con Verstappen undicesimo e Perez tredicesimo. Lobson per sette millesimi si prende la decima posizione e manda Verstappen fuori dai primi dieci, mentre Perez che stava facendo il giro è andato in testa a coda, era mancato 30 secondi alla fine quindi non è riuscita ad arrivare prima della scadenza dei 30 secondi sul traguardo, non ha migliorato il suo tempo e si deve accontentare addirittura della tredicesima posizione. Viceversa, miglior tempo per Sainz davanti a Russell, Alonso, Magnus e Norris e Hulkenberg. Fuori dal Q3, come dicevamo, Verstappen undicesimo, Gasly dodicesimo, Perez tredicesimo, Albon quattordicesimo e Sunoda quindicesimo. clamoroso. Dopo quattordici vittorie di quel che era, le Red Bull sono out fuori dal Q3. Inizia al Q3 ed ecco chi sono i magnifici G10 che si giocheranno la pull position, la pull position e non ci sono i due galletti. Oltò il gattone. Quando il gattone e le staffe non c'è, i topolini ballano. E i topolini sono Magnus e Sainz, Russell, Alonso, Norris, Hulkenberg, Leclerc, Hamilton, Ocon e Lawson. Questi dieci piloti che si giocheranno la pull position. A cinque minuti dalla fine del Q3, prima fila tutta rossa con Sainz davanti a Leclerc, quindi Norris, Russell, Hamilton e Alonso. Ultimo giro ragazzi per tutti e Sainz è il primo a terminare, o meglio termina, forse è stato il primo a terminare, migliorando ulteriormente il suo tempo e quindi ha quasi quasi in tasca la pull position. Norris arriva dopo di lui e si prende la seconda posizione, ma devono ancora arrivare tutti o quasi gli altri, compreso Leclerc. Arriva Leclerc e si prende la seconda posizione e per ora è ancora prima fila tutta rossa, ma ne devono arrivare ancora qualcuno, tra cui le due Mercedes. E infatti Russell beffa Leclerc per 79 millesimi, ma è pull position per Sainz davanti a Russell, Leclerc, Norris, Hamilton e Magnussen. Ma andiamo a vedere questa griglia di partenza per il Gran Premio di Singapore, vado a Singapore, vi saluto bel signore, canzone dei nuovi angeli 1970, 71, 72 più o meno. Aspettate che per curiosità vada a vedere nuovi, per curiosità, tanto abbiamo un attimo di tempo. Angeli, Singapore, vediamo di che anno era. 1972. Madonna benedetta dell'incoronare, meglio che non ci pensi. Vabbè che sono sempre diversamente giovane. Poi cos'è stato? Un paio di settimane fa il pizzaiolo mi fa Gigi, ma davvero hai l'età di mio papà? Pensavo avessi 35 anni al massimo. Ma grazie. Sono piccole soddisfazioni della vita ogni tanto, raramente mi capitano. Comunque ragasoli, torniamo a bomba al Gran Premio di Singapore, e vediamo questa griglia per il Gran Premio che inizierà today alle 14. Quindi devo muovermi a mettervi il video perché sennò poi è tardi. Prima fila Sainz-Russell. Seconda fila Leclerc-Norris. Madonna! Qua si scannano. Speriamo che non facciano disastri come al solito. Terza fila Hamilton e Magnussen. Quarta fila Lons e Ocon. Quinta fila Hulkenberg e Lonson. Sesta fila Verstappen-Gasli. Clamoroso Verstappen in sesta fila. Settima fila Perez e Albon. Clamoroso settima fila per Perez. Ottava fila Zunoda e Bottas. Nonna fila Piastri e Sargian. E decima fila Zu e Stroll. Mi sa che se Piastri non si dà una smossa L'anno prossimo anche lui tela. Anche perché c'è questo ragazzino Lawson dell'Alfa Tauri che sta facendo veramente molto 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 bene. Poi non so come sono andati i Gran Premi precedenti perché non li ho ancora visti però nelle prove delle qualifiche il buon Lawson si sta comportando molto bene. e quindi già è a rischio Ricciardo e poi soprattutto potrebbe trovare un sedile l'anno prossimo magari non in Alfa Tauri in una qualche scuderia satellite del Red Bull visto che Alfa Tauri e Red Bull sono collegate tra di loro e quindi magari qualche scuderia amica per farlo crescere perché il giovane si è presentato molto bene intanto Sainz zitto zitto cacchio cacchio ha fatto la pole position calcolando che le Red Bull partiranno in sesta e settima fila è vero che ci mettono tre giri a recuperare entrare nei primi 5-6 subito però sai parti già con 10-11 macchine di vantaggio pista libera cominci a fare quei giri che ti servono per guadagnare quei secondi da poi gestire durante la gara e tra l'altro il Gran Premio di Singapore è un Gran Premio in cui è sì veloce rispetto a Monte Carlo però è sempre un circuito cittadino in cui il sorpasso ogni volta che devi sorpassare dici ce la farò ci riuscirò o spacchiamo tutto o ci spacchiamo quindi recuperare non è così semplice proprio perché è difficile sorpassare non c'è lo spazio materiale non ci sono curve veloci che poi si mettono sul rettilineo o viceversa quindi vedremo vedremo cosa succederà oggi alle 14 sono piccole soddisfazioni una pole position eccetera magari la possibilità di vincere però se andiamo a vedere la classifica ah volendo posso vederla da qua forse no devo proprio classifica piloti formula 1 tanto per vedere la differenza tra Verstappen e gli altri allora Verstappen ha 364 punti aspettate che sì Verstappen ha 364 punti Perez nel 219 direi che il mondiale è già finito da un pezzo siamo alla quindicesima gara è vero che ci sono 25 punti a gara se non erano globalmente dovrebbero essere dovrebbero essercene ancora 7-8 di gara e compre più questa quindi 7-8 compresa questa quindi ci sono 200 punti in paglio per il primo cioè se le vinci tutti fa 200 punti quindi se Perez le dovesse vincere tutte se sono 8 mettiamo che siano 8 fa 200 punti va a 419 a Verstappen basterebbe fare 36 56 punti per andare a 420 quindi 56 punti in 8 gare Verstappen penso che li faccia in 4 gare tranquillamente quindi per cui direi che il mondiale è già in tasca al buon Verstappen Perez è secondo la classifica costruttori è già in mano loro perché sono già oltre quasi 600 punti prendiamo le due Ferrari visto che ci sono le due Ferrari al quinto o sesto posto le due Ferrari insieme non fanno i punti di Perez rendetevi conto le due Ferrari di Sainz e Leclerc fanno 218 no fanno 228 punti quindi hanno 9 punti in più di Perez in due cioè in due per superare Perez se si mettono assieme Sainz e Leclerc che fanno un pilota unico fanno 228 punti contro il 219 di Perez da solo questo per dirvi la netta superiorità delle Red Bull quindi è vero oggi è andata male tutto quello che volete ci sono problemi magari non faranno una gran gara né uno né l'altro però ragazzi miei cioè non penso che sarà sempre così vedremo vedremo magari le nuove direttive sugli alettoni e li hanno mandati un attimo in crisi e c'erano i due responsabili Red Bull aspettate aspettate che vado che non mi dimentico uno è Adam Newy e l'altro non mi ricordo quindi che si guardavano è Horner uno è Horner e l'altro è Newy Christian Horner aspettate che l'organigramma Adrian Hewitt comunque dovrebbe essere perché sono andato qua boh dovevo andare qua però mi mette qua va bene scendiamo 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 però avete ragazzi cambia poco dai non sto non sto lì però comunque si guardavano un po' preoccupati cioè se questo capitava inizio mondiale che sei ancora lì tutti vicini vicini ma in questo momento anche se venite andate in vacanza e lasciate vincere qualche gran premio agli altri non è che morite perché tanto avete già in tasca tutto cioè quando una squadra con due piloti riescono a malapena superare il vostro secondo pilota nel punteggio generale della classifica cioè vediamo le Aston Martin per dire che Alonso ha 170 punti però il buon Piastri ne ha fatti 36 quindi loro in due non riescono ad arrivare a Perez arrivano a 206 e Perez ne ha 219 quindi capite che se De Stafel ha 364 punti e la Red Bull per tenersi dietro Mercedes Aston Martin eccetera prendiamo la Mercedes la Mercedes Hamilton ha 164 punti Russell ne ha 109 arrivano a 273 punti loro ne hanno 583 dove vogliamo andare dove vogliamo andare cioè è chiuso anche se loro per due tre gare vanno in crisi per la questione degli alettoni che non si possono spazio poi la risolvono perché ci hanno dei progettisti da libidine quindi la risolvono subito sto problema ragazzoli forse forse oggi non vincerà una Red Bull forse vedremo perché non vorrei che in partenza qualcuno combini qualche disastro e loro che sono nelle retrovie belle tranquille arrivano passano salutano e se ne vanno vabbè vedremo vedremo comunque come dicevo quando il gattone Verstappen non c'è i topolini ballano felicemente e chissà quale sarà il topolino che ballerà alla fine di questo gran premio o se il buon Verstappen o il buon Perez faranno il rimontone clamoroso e andranno nuovamente a vincere lo stesso pur partendo dalla quinta dalla sesta alla settima fila vedremo io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima chau 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 chau